Salve a tutti friends dal vostro supercorris, eccoci qua ragazzi, parliamo di paranormale, torniamo a parlare di paranormale perché negli ultimi 20 giorni sono successe due cose molto strane che io chiaramente, o testimonierò adesso vi faccio passare le immagini che mi hanno fatto pensare, molti mi stati chiedendo qualora, ma è paranormale, perché non ne parli più ragazzi? non lo so, non me la sento, se una cosa non mi sento di farla non la faccio di base, quindi non è un momento dove mi sento molto invogliato a fare il paranormale, farlo qua attorno a casa, non c'ho voglia, il fosso adesso è sgombro perché si è ritirata talmente tanto la vegetazione che prima non si scendeva da nessuna parte, adesso si entra e si scende ovunque, però è pericoloso perché sono cacciatori che vanno in giro anche se la caccia è chiusa, è perché sono tante piante cadenti che potrebbero crollarti sopra e ammazzarti là quindi è pericoloso avevo detto l'altro giorno in alcune storie che ho messo sul canale, sull'account Instagram Supercorris avevo messo io che scendevo con i cani per guardare un po' la situazione all'interno del fosso degli spiriti beh ragazzi da allora due cose stranissime e abbastanza raccapriccianti prima di partire però col video vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social se volete c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Supercorris and Friends, vi potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza link di Paypal in descrizione c'è l'aiuto, il sostegno al canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutare il canale a crescere e a migliorarsi dobbiamo prendere un pc, state facendo delle donazioni vi ringrazio tutti quanti e chi donerà ancora mi aiuterà in questa mia impresa allora ragazzi che è successo? un venti giorni scarsi fa mi sveglio, la mattina avevo dei graffi qua ma dei graffi profondi, era uscito del sangue ora uno può dire qualsiasi cosa si dormi la sera, la notte, ti giri ragazzi come ti fai a fare dei graffi? sto nel letto, è morbido cioè non c'è nulla che può tagliarti la pelle vi metto la foto, qua ve la faccio passare dei graffi dei graffi con annessi il sangue uscito quindi delle scoriazioni pur un po' profonde non si sa da dove sono usciti ragazzi la notte non sto a ver... allora ragazzi da un paio di giorni è uscito questo graffio molto profondo come vedete assolutamente dal nulla sento ori particolari sì ogni tanto sento qualche bottarella in camera ma uno dice beh sta scricchiolando l'armadio classica cosa che si dice oppure vabbè magari c'è qualche terremotino piccolino che fa fare rumore alla casa però nulla di preoccupante beh ragazzi svegliarmi la mattina e vedere questi graffi non è semplice perché anche se tu ti gratti non ti vai a graffiare la pelle in modo che te ne porti via un pezzo purtroppo vedendo sempre in ambito paranormale i graffi sono sintomo che qualcosa la notte ti viene a trovare e non è buono io adesso stavo pensando ho detto passi questo non è un problema se passa questo va bene se ci saranno altri dettagli e altre disavventure qualcosa dobbiamo fare io l'ultima volta che feci ragazzi per stare tranquillo la classica cosa che ti insegnano qua scopa in piedi dietro la porta sale sulle finestre perché si fa questo ragazzi perché la presunta entità che vuole entrare in camera per farti qualsiasi dispetto se tu metti queste due cose non puoi entrare perché? perché si dice che deve contare tutte le setole della scopa o tutti i granelli di sale per ora che finisce a contare tutta questa roba si fa giorno quindi questa è la leggenda che si tramanda qua dove abito io vabbè passano i giorni qua la ferita che poi era qua eh una volta una spalla una volta un'altra era qua passano i giorni se ne va questa ferita e va benissimo questa mattina mi sveglio porca miseria vado a vedere c'ho proprio dei graffi qua non profondi che mi fanno uscire il sangue ma sono proprio dei graffi evidenti qua sulla spalla ma c'ho la miseria che cazzo è successo ho detto c'ho graffi proprio di qualcuno che ha cercato magari ad andare ancora più in profondità io non è che migrato e se migrato c'ho il pigiama non mi posso fare così male da solo ragazzi sono rimasto allibito ma la cosa bella è che io sono stato fino alle 4 di stanotte a guardare il film la serie Netflix su Rocco Siffredi di cui farò un video probabilmente domani perché è molto bella parla di un personaggio che al prescindere dal porno ragazzi ha fatto grandi cose nel mondo Rocco Siffredi è un onore per noi cioè siamo onorati di essere abruzzesi come lui sicché la cosa bellissima qual è? sono stato fino a tardi pure sabato oggi non c'era la formula mi sono svegliato alle 11 dalle 11 a mezzogiorno e mezzo se n'è andato tutto cioè io non l'ho fatto vedere subito a mia madre non gli ho fatto vedere questi graffi mi sono svegliato e mi faccio colazione al volo vengo subito sopra e faccio i primi video ho fatto i pensieri domenicali che avete visto scendo sotto dico mamma guarda qua che c'ho dei graffi scomparsi scomparsi ora vi faccio vedere sparsi pure che ci qualche segno c'è ancora però di base non si vedevano più ecco vedete raga di base non ci sono più questi graffi vi metto la foto anche di quello che era stamattina appena mi sono svegliato sono scomparsi non è la prima volta io quando vedevo Ghost Adventure e ho visto quando loro sono stati graffiati nel bel mezzo delle missioni da qualche entità quando ho visto Ghost Adventure ragazzi di base anche là le volte i graffi apparivano fragorosi sentivano il dolore vedevano i graffi e dopo un po' scomparivano questi graffi sono scomparsi nel giro di un'ora un'ora e mezza qualche la cosa mi puzza e mi ha fatto un po' preoccupare perché è evidente che una volta su una spalla una volta su un'altra ci sono questi graffi come se qualcuno mi cercasse di prendere la notte e di bloccarmi ragazzi non lo so non so che dire non so che dire non so che fare adesso torneremo appunto al vecchio metodo scopa e sale però di base effettivamente sono un po' stranito da tutto ciò perché ripeto cose non ne ho fatte più voglia di andare a fare indagini paranormali in questo momento non ce l'ho d'altronde ho levato anche le app dal telefono non ho fatto più rinnovi dell'abbonamento perché ragazzi è bello ma tu devi avere il tempo per fare solo quello cioè io faccio troppe cose si ve l'ho sempre detto voi mi dite sempre corra perché non fai quel perché perché ragazzi la base del mio canale e lo sapete tutti è formula 1 sul primo canale e diciamo il racing game su questo perché io vario gli argomenti parlo di calcio parlo di mille cose faccio prove faccio prove di videogiochi che non sono meri videogiochi di formula 1 di racing game è chiaro che è un qualcosa in più che ci metto io però di base quello che mi fa campare a me è parlare di formula 1 e correre ragazzi è inevitabile fare video è paranormale innanzitutto a livello economico non ti fa guadagnare nulla fanno scarsi mille visualizzazioni a video sono pochissimi soldi in cassaccio devi mettere tempo devi rischiare perché poi c'è il rischio a me le visualizzazioni in sé non è che mi bloccano più di tanto mi blocca il fattore rischio purtroppo ragazzi quando fai queste cose non sai mai dove finire a capitare parliamo così quindi il discorso è che mi sono un po' staccato è chiaro che in futuro tornerò a fare sicuramente qualche indagine paranormale se mi chiamasse qualcuno per partecipare a qualcosa non demoniaca ci andrei perché sono curioso io purtroppo ragazzi sono un eterno curioso da quando ho visto l'UFO quest'estate documentato sui miei video è chiaro ragazzi ho capito che c'è qualcosa anche molto vicino qua a me come ho fatto vedere proprio sui cieli qua di casa mia c'è un via vai di situazioni strane fatto poi che abbia provato le app paranormali e queste cose qua mi ha fatto capire che c'è un contatto in corso e che noi possiamo instaurare con delle entità il fatto che abbia parlato con l'app abbia fatto delle domande mi sono state risposte cose molto intelligenti o magari cose che stavo pensando in quel momento mi ha fatto intuire che noi siamo sempre accerchiati da qualcosa io ho fatto delle riprese anche in casa mia col Kinect abbiamo visto delle delle sagome ovunque anche in camera mia in camera mia ce n'erano 3-4 una nottata quindi pensate un po' voi questo mi fa pensare e mi fa intuire come probabilmente io qua già c'era qualcosa e lo sentivo io ho sempre sentito che qua a casa mia qualcosa c'è non dico sia malvagio però qualcosa che ti stuzzica un po' e quindi questi sono segnali che non sono solo io pensavo di aver abbandonato tutto di aver lasciato dietro le mie spalle tutte queste esitazioni invece c'è un segnale che qualcosa di un po' arrabbiato nei miei confronti ci sta e allora a questo punto bisogna agire di consapevolezza perché ragazzi cioè sono due volte che accade nel mio letto e porca miseria vuol dire che nel mio letto qualcosa non va bene nella mia stanza da letto quindi vedremo il da farsi vi farò sapere cosa combinerò nei prossimi giorni per tenervi aggiornati perché poi la fin fine è quello il discorso però di base ragazzi è una situazione molto strana io ho parlato con mio zio oggi stavo mangiando ho detto guarda controlla perché magari ti sei grattato ho detto sì ma è che mi porto via la pelle quando mi gratto pure di notte non è mai successo non è che a 40 anni mi metta a farli dann fisici non è mai successo qualche volta ti puoi svegliare con un piccolo livido il piccolo livido ci sta ti giri sbatti dei graffi così profondi e così evidenti non ci sta più a questo punto non c'è più da dubitare che c'è qualcosa di esterno secondo me questa è la mia ipotesi fatemi sapere voi che non iniziate a scrivere se hai in pericolo i demoni le cose qua ragazzi non è niente in pericolo sono delle cose che possono accadere amen io non c'ho paura perché io non rompo i coglioni a nessuno e sono vado avanti per la mia strada credo in tutto e rispetto tutto quindi l'avete visto non mi sono mai permesso di rompere i coglioni non devo rompere i coglioni più del tempo dovuto quindi vediamo cosa accadrà fatemi sapere che ne pensate ci vediamo nei prossimi video